Ciao a te, bentornato su Final Fantasy VII Rebirth Secondo capitolo della saga di questo remake Credo, ma non credo proprio Wow Stiamo volando Um Cascata incaduta Oltre se lo sentite tutte le voci urlanti Soprattutto Yuffie, Iris e Barrett Una cassa Unitevi il grezzo Ok Posso continuare Ad andare Ma dove però? Dove? Proviamo a salire Qua c'è un'altra Un altro giro tondo Poi dove devo andare, Cici? Ok Da quella parte? Da quella parte Dove? Oh cavolo Ma non so se neanche se devo arrampicarmi Cosa devo giravoltare questo? Sala dell'astropultureo Ecco quante ce ne stanno 300? Che ne so io Che ne so io Mettiamoci di qua Almeno Non lo so Non lo so Proviamo ad andare di qua Via dello smarrimento Va bene Capito Ma dove devo andare io? Terzo piano No, no, no Ti prego Ti scongiuro Ti adoro Io ti ammiro Torna e Prego Bello Bello Arcano Eh dai Veloce Vuoi andare allo scremo Oh mio dio Ah proprio non lo prendete neanche Bravissimi Bravissimi Tutte e due Fermi tutti Iris Iris Bracciale dei Cetra Lo vuoi? Ah Bracciale di difesa fisica In cui è preservato lo spirito dei Cetra Ok Non è per Iris Magari è per Cloud Più o meno Più o meno eh Barrett No no Tifa Per Tifa Sì Per Tifa Sì Per Tifa No Assolutamente No Adesso ti devo andare a riposizionare tutte le materie Perché sono scemo Scemo Ercica Ercica Dalvanica Poi Che altro c'era? Statica Ma sì Sisma Giusto Poi Che Che ne lo so Poi L'elevatrice L'elevatrice E poi Osmotica Dai io Io voglio Crederci in questo Ok Ma dove? Ma è mai possibile? Ok Sta cosa qua è totalmente completamente inutile Un passo falsissimo Qua No Dobbiamo ritornare giù Ti fa giuro che non sto guardando in alto Non Ah Non Beuh No, così era come prima Dov'è? Qua, così? Proviamo Eh, di qua, bravo Dove? Dove? Di qua, di qua Uh, mi sto avvicinando Avamposto Oh merda, quanti sono? Eh, adaltro, Barrett che diavolo ci fa qua? Questa è la squadra Ok, cici Mi fate passare? Oh merda Oh merda Oh merda Oh merda Ok Ok Oh merda Un grande stile Benevolenza del pianeta Dono del pianeta Arcano del pianeta Pozione delle casse Che apriva immediatamente Ok Ok Tempio Sto per entrare Oh merda Eh, oh merda Meno male che gli antichi Pacevano i distributori Ok Ok Giga pozione Metere Cosa di canicia Io dell'etere Giuro che ne prenderei altri 600 E ci riposiamo malissimo Sto arrivando Due e tre sono morti Mi sa tanto Beh Questo non è bene E ci riposiamo malissimo 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 Oh ok non ho idea del motivo ma va bene così ok colpo d'acce sulla testa ma no cometa sulla cometa sulla testa energia per crowd ok colpo d'acce sempre in testa boom colpo d'acce di nuovo in testa boom non finisce qui colpo d'acce di nuovo in testa ok 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 attenzione intenzione attenzione e intenzione questa frase significa parecchio la tensione è durata granché vita sinergica iniziamo col finale unito sempre pulonato buono ma perché si vede così? magia a questo punto posso tranquillamente ok per ora sta andando bene ok abilità sinergica fioritura cosa? sempre sulle pezzi boom ma intenzione ti prego stacci intenzione che merda non sta tanto stagionata di modo in testa ok ok Ci prenderò di loro. Cosa? Non ancora? Tutti tutti ok? Non lo so. e poi hai risultato preso ma male 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 quindi energia su se stessi ok 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 viva Oh Oh Uff, vinta al limite, ma sei troppo lontano, Gioia! Alla destra? Ok, cosa cazzo è successo? E io questo come lo posso evitare? E' in tensione allo stronzo, e sono anche morto. Ok, abilità limita vento guaritore immediatamente. Ma che cosa che si è morto, ma estremo, estremo e sei da sola. Oggetto, ma porca la miseria, godo di Fenice per Cloud, e vai, veloce. Fabula rasa, eh dai, ma vaffanculo. Eh, oggetti. Cosa di Fenice per tifo. Flipper? Proviamo i Flipper. BOOM! Invochiamo! Invochiamo le mie palle. Colpo del delfino, ma cosa che quello va a destra e a sinistra? Niente. Vabbè, oggetti, almeno speriamo che qualcosa vada bene. Cosa di Fenice, ma tanto non ci apro il tempo. Cosa di Fenice! Eh, ma dove cazzo devo andare? Dove cazzo devo andare? Dove cazzo dovrei andare con tutto questo? dove cazzo dovrei andare a dopo bella coda come on come on come on porca la ok vaffanculo tu di qua siamo all'interno stiamo andando nella profondità del tempio degli antichi ed ecco qua dove ci stanno graffiti particolari io posso servire di toccarlo che ci fanno chi sono quelli ah sì sempre la scindola rude e reno oh merda i think the life streams angry at least that's how it feels hey eris do you think you could explain that we don't mean any harm i don't know Vai Aris Penso che ho questo. Penso che ho questo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. si si ma qualcuno lo può ammazzare sto coso ok magia energia subita e claude perché sei stupido ok ok ma mi sembra ma mi sembra tutto un mix un paio di june graver ma questo è per tifa sicura ma ovviamente per tifa vediamo che sono questi potenza fisica ancora più alto tutto collegato il che mi piace tanto colpisce un nemico estremato fulminamente il nemico di fronte incrementi il bonus di danno se il nemico estremato mi piace abilità delle armi più 5 tasso critico più 5 10 per centi danni in critico limite tasso critico più 5 a ogni sberla tifa deve fare un critico e andiamo di qua continuiamo a scendere no ma che claude fermissima di qua ragazzi ma che sia mai che magari un rampicante si stacchi quindi se iris per ora sta bene benissimo che non vuol dire lo stesso di noi poi ok prego altri mostri prego cloud se cadiamo qua sotto siamo peggio della marmelle della sottilette ma perché ci fate qua io non vi voglio affrontare non voglio dovrei andare di là però sento odore di cazza un pezzo di planetita un pezzo di lento ok vediamo se riusciamo ad evitare questi giorni spriciando no dov'è che devo andare di là liscio e te pareva è un momento giusto questo tutto questo ricorda molto moltissimo questo ricorda molto, ma moltissimo quale rota? dove si rieda? vorrei tanto ok è mo? sì ma è mo? sì ma è mo? non è vero a tutti gli antichi che abitavano in questo posto, ma di sta cosa che bene facevate non è vero no 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 calabrone h drago vetuzzo leone h drago vetuzzo leone h drago vetuzzo Sì, c'è, bring it, yo, oh, yeah, yeah, dobbiamo fare? Vaiata, hai qualcosa, sei alto 9 metri Quasi, sei tenemos un tiro Oof, mamma mia, guanti cazzo, fino a le sengizio, è che si doveta ok questa parte da questa parte a quanto pare prendo rammento di stella ma per quanto mi riguarda No, 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 no No, 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 no Eh, no, no, no Oh, no Sì, fanno malissimo sti stronzi Sì, ora! Un'altra! qua dai nel classico entravi qui dentro c'era esclusivamente i turcs divaccati a terra è il fine della storia veloci wow è meglio da qua come esco che razza di posto ma l'ho detto l'ombra della scuola basta chiacchiere la murata l'ombra della scuola non hanno idea di cosa stanno affrontando ma siccome questo video sta durando 9 sorcici grazie sinergo per avermi dato la possibilità di dire questa cosa sognavo da piccolo da dirlo sin da piccolo sognavo di dirlo va bene quindi cosa ho detto che sognavo da dirlo vabbè comunque per oggi è tutto appuntamento al prossimo video ciao